andiamo dai su gira sto mezzo veloce veloce gira gira buttala su di lì no di lì di lì buttala su se è già più alta te la tiri dietro no? prova dai seconda dai dai così ancora ancora la tiri è già più alta Perchè? Gira e vai su di qua, perchè hai scelto la strada sbagliata, gira, oh, gira, ah ti piace il sinistro, ti piace il sinistro, ma perchè non muori la frizione scusami, oh, dovevo guardare lui è per quello che mi sono girato in fretta, ma che bella scavata? Vai! Vai, fra! Vai! 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 Apri e basta! Perchè fanno così fatica a spostarla? Piede in terra, peso sull'altra pedana, schiacci e tiri, senza esagerare! Grazie! 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 Grazie!